Siamo al Teatro Municipale dove si sta girando una fiction per la regia di Corrado Calda e Giusy Caffari Panico sui tre tenori piacentini. Siamo proprio nel mezzo delle riprese e ci facciamo raccontare il progetto dal regista Corrado Calda. Hanno tutti e tre in comune, non soltanto il fatto che sono piacentini, hanno tutti e tre avuto a che fare con Nicolini, due come allievi, uno come insegnante. Hanno tutti e tre calcato questo palcoscenico. Cristale ha debuttato proprio qui nella Bohème facendo il ragazzino di Parpignol. Tutti e tre hanno avuto tournée in Sud America e nello specifico in Metropolitan di New York, quindi oltreoceano perché il documentario si chiama I tre tenori che dal po' varcarono l'oceano, titolo che ha trovato Giusy, come dico sempre io, la mente intelligente della famiglia. E poi tutti e tre sono stati a Sud America, al Colón di Buenos Aires e al Metropolitan di New York. E nella parte di Cristalli abbiamo Umberto Petranca, notissimo premio Ubu. Dunque per me chiaramente è stato un onore interpretare questo personaggio, una voce così importante del panorama piacentino, ma anche con un personaggio, con una storia così singolare, così sui generi, se anche con un destino così particolare, insomma il fascino in dubbio di questo artista che calca le più grandi scene, che viaggia oltreoceano e che poi di fatto finisce in qualche modo un po' nell'oblio o finisce comunque in miseria. Quindi chiaramente da attore non posso che essere attratto e affascinato da questi personaggi che hanno queste parabole appunto così ampie di evoluzione. e oltretutto poi naturalmente anche il fatto di dare voce a un personaggio che costituisce una memoria di un territorio un po' dimenticata che quindi vale la pena riportare alla luce.